Prima di iniziare questo nono frammento, vi accenno al tipo di linguaggio che Eti Ilesum utilizza, che è un linguaggio poetico fatto di immagini, metafore, storie, un linguaggio che parla anche le parti più piccole di noi. Il linguaggio poetico risiede sia nel modo di vedere il mondo dei bambini come dei folli, anche i folli, i poeti, i bambini vivono nello stesso mondo, cioè il mondo che viene osservato da occhi a un certo punto puri, puri da che cosa? Dalle stratificazioni di menzogna che l'occhio di qualsiasi adulto ha su di sé, stratificazioni e stratificazioni di menzogna. Ecco, allora godiamoci quindi la poesia di Eti Ilesum e questa capacità di toccarci nel profondo, semplicemente ascoltandola come una musica. E' vero che pensarla in questo modo vuol dire sentirsi come un palo in mezzo a un mare infuriato, contro cui da ogni parte sbattono le onde. Ecco, vedete questa immagine, un palo in mezzo a un mare infuriato, dove da ogni parte si infrangono le onde, cioè le onde che arrivano da tutte le parti, non sono onde che hanno una direzione, è un palo che è in mezzo a questo. Ciò significa tuttavia anche non fidare eroicamente nelle proprie forze, ma combattere in forza di qualcosa dentro di sé. Quindi non fidarsi eroicamente delle proprie forze, non immaginare di avere questa forza di resistere fisicamente a questi eventi, ma combattere in forza di qualcosa dentro di sé e farsi attraversare dalla sofferenza e dalla violenza che gli uomini infliggono a sé e agli altri. Quindi, sentiamola di nuovo questa frase. Facendosi semmai attraversare dalla violenza e dalla sofferenza che gli uomini infliggono a sé e agli altri. Lasciarsi attraversare dalla forza e dalla violenza che gli uomini infliggono a sé e agli altri. Quindi, potremmo dire, mettendosi in ascolto, facendosi recettore di questa violenza. E implica, infine, esercitare una vigilanza severa sui propri sentimenti, quindi sulle proprie passioni tristi. Così come fece Spinoza, che fu un grande perseguitato e a 25 anni aveva perso tutto, fu preso dall'odio, lavorò dentro di sé per scoprire le radici di questi sentimenti e fece un enorme lavoro di individuazione, diversi stati d'animo da dove arrivano. Quindi fece un lavoro di purificazione di questi sentimenti, comprendendo che l'origine di questi sentimenti non viene dal mondo esterno, ma viene sempre dal mondo interno. Qualcosa che poi la psicanalisi scoprì con Freud, secoli dopo, i nostri sentimenti non dipendono da cause esterne, ma dipendono da cause interne, nel senso che se noi siamo in uno stato di coscienza, di cui vi ho parlato poco fa, cioè in uno stato di coscienza animico-spirituale, la nostra sensibilità è molto diversa da quella che abbiamo se invece ci collochiamo a uno stato di coscienza ordinario, dove abitano regolarmente le passioni tristi e quindi dove viviamo in una situazione di rabbia, rancore, paura, tristezza. Ecco, allora la causa di questi sentimenti, in questo mondo li attribuiamo alle cause esterne, in quest'altro mondo li attribuiamo alle cause interne, perché qui sappiamo che dipende solo da noi che cosa noi possiamo provare nei confronti del mondo. Ecco, l'insegnamento dei grandi maestri, e questa è Tilesum, è sicuramente una mistica, una grande maestra, ci dicono che la salvezza è dentro di noi, va cercata lì, non combattendo da questo livello, ma combattendo da quest'altro livello, dove la visione è completamente diversa. Abbiamo parlato prima di osservare il mondo dai merli del palazzo della storia. E insieme umanizzare la sofferenza, toglierla l'aspetto puramente fisico e materiale, che disumanizza, e reintegrarla nella condizione umana. Quindi, togliere l'aspetto puramente materiale della sofferenza, cioè l'attenzione al corpo, ci porta a concentrarci sulla sofferenza materiale. Ecco, e invece che la disumanizza, invece occorre umanizzare la sofferenza, occorre appunto salire su un livello di coscienza in cui si acquisisce il senso di questa sofferenza. Il senso di questa sofferenza è uno solo, quello di farci evolvere a un livello di coscienza tale in cui quella sofferenza, il tipo materiale, non esiste più. Eccolo qua, fiume della vita. Gli ostacoli che la vita ci propone, noi possiamo superarli attraverso l'accettazione piena e consapevole della sofferenza come cagionata da forze invincibili, che sono quelle della necessità della storia. Noi di queste forze non possiamo fare nulla, non possiamo combatterle, ma dobbiamo imparare ad accettarle come mezzi di evoluzione, altrimenti il nostro destino sarà finire dentro la pozza della nevrosi, cioè del conflitto senza fine, cioè della dissoluzione della psiche umana. Allora, qui c'è il gatto che oggi finalmente è intervenuto per darci una mano. Vorremmo vedere il suo musetto, ma non è così facile. Ecco, fra poco riprendiamo la registrazione. Ecco, come vedete, eccola qua. E non girerà il testolino, perché i gatti si sa che... Eccolo. Guardalo. Ecco, penso che la tigretta l'abbiamo vista abbastanza adesso. No, vabbè, guarda. Che tipa che sei. Oh, amore. Oh, si mette anche a parlare. Ecco, vai qui dentro. Ecco, fatto. Basta, ora ci possiamo fermare. Che buono, vabbè. Bene. Etiilesum, in una parola, ha la forza di sopportare tutto e la attinge innanzitutto al ruolo fondamentale attribuito alla sensibilità. Quindi, etiilesum ha la forza di sopportare tutto e la attinge a quella forza che lei chiama sensibilità. Quello che, e non credo di sbagliarmi, coinvolge quotidianamente ognuno di noi alle prese con piccole e grandi depressioni, angosce e sensazioni di non essere liberi, diventa in Etiilesum la convinzione che la vita e la morte, il dolore e la gioia, le vesciche ai piedi estenuate dal camminare, il gessomino dietro casa, i lupini e il cielo che riuscirà a guardare anche con il filo spinato davanti, le innumerevoli atrocità, tutto e un unico insieme. E come tale viene accettato e compreso. E ascoltiamo, eh? Di sopportare tutto e la attinge innanzitutto al ruolo fondamentale attribuito alla sensibilità. Quello che, e non credo di sbagliarmi, coinvolge quotidianamente ognuno di noi alle prese con piccole e grandi depressioni, angosce e sensazioni di non essere liberi, diventa in Etiilesum la convinzione che la vita e la morte, il dolore e la gioia, le vesciche ai piedi estenuate dal camminare, il gessomino dietro casa, i lupini e il cielo che riuscirà a guardare anche con il filo spinato davanti, le innumerevoli atrocità, tutto e un unico insieme. E come tale viene accettato e compreso. L'accostamento di tanti aspetti del reale dà vita a un universo molteplice. I campi di concentramento e le poesie di Rilke, il tramonto nel cielo di Westerbork, il pianto di un bambino e la carezza di sua madre. Invece di ottundere i propri sensi, non voler pensare, non voler sentire, illudendosi di espellere la sofferenza fuori di sé, il dolore e la morte accettati come parte della vita, accrescono l'ampiezza della realtà, mostrano che essa non ha un'unica dimensione, ma è molteplice e contraddittoria. Il suo altruismo, la capacità di assumere su di sé il dolore degli altri, rivelano la durezza di un'esperienza concretamente vissuta, nel momento in cui il suo desiderio di essere poeta, scrittrice, di tenere qualcosa per sé, di avere molto semplicemente un futuro, viene completamente travolto dall'urgenza di vivere tutto. Ripeto ancora, perché il mondo interno e il mondo esterno si corrispondono. La psiche è una, la psiche interna a me e la psiche dell'io collettivo sono la stessa, per cui se io mi credo libero da quello di male che vedo fuori, compie un atto di cecità, di miopia. Ecco, solo che chi ha il coraggio di scendere nell'inferno del proprio inconscio, come ha fatto Dante, scendere nell'inferno, e quindi come atto iniziatico, può poi risalire alla luce del paradiso. Quindi l'urgenza di vivere tutto, ospitare tutto, sopportare tutto, ci ha detto. Di ospitare tutto, di sopportare tutto. Come abbiamo visto, non volle fuggire, non volle nascondersi a ogni costo, perché non voleva essere strappata dal fondamento della sua esistenza. Quindi non voleva fuggire, non voleva scappare, perché non voleva essere strappata dal fondamento della sua esistenza. Aveva già capito che la sofferenza era già dentro di lei, faceva parte di lei, faceva parte di lei, era da sempre lì. Era da sempre lì. Il problema diventa allora per lei lottare contro il rischio morale insito nella situazione che stava vivendo, il pericolo di inaridirsi, di avvenzire, di non voler sentire né pensare. Si tratta di condurre una lotta morale contro il pericolo di inaridirsi, non voler sentire e pensare. Bisogna invece soffrire in profondità, non in superficie, allargare l'orizzonte della propria anima. Certo che non è così semplice, e forse meno che mai per noi ebrei. Ma se non sapremo offrire al mondo impoverito del dopoguerra nient'altro che i nostri corpi salvati a ogni costo, e non un nuovo senso delle cose, attinto dai pozzi più profondi della nostra miseria e disperazione, allora non basterà. Rissentiamola ancora. Certo che non è così semplice, e forse meno che mai per noi ebrei. Non è così semplice fare questo, è meno che mai per noi ebrei. Ma se non sapremo offrire al mondo impoverito... Perché per gli ebrei? Perché gli ebrei sono un popolo da sempre perseguitato, per cui è difficile accettare il dolore e saperlo superare nel modo che indica Etilesum. Questo presuppone un processo iniziatico. E poi dice, ma se non riusciremo a dare senso nuovo a queste cose... Poverito del dopoguerra nient'altro che i nostri corpi salvati a ogni costo... Cioè, se non sarei primo a dare un senso nuovo e l'unica cosa a cui appunteremo è salvare i nostri corpi... E non un nuovo senso delle cose, attento dai pozzi più profondi della nostra miseria e disperazione. Allora non basterà. Dai campi stessi dovranno irraggiarsi nuovi pensieri, nuove conoscenze dovranno portare chiarezza... Dai campi di concentramento dovranno irradiarsi nuove conoscenze, nuovi pensieri... Oltre i recenti di filo spinato... Dovranno portare chiarezza oltre i recenti del filo spinato. Vedete, no? Le immagini che ci dà. I campi di concentramento, le persone sofferenti e il punto di morte dovranno generare un pensiero nuovo... che si è in grado di superare quei fili spinati... E congiungersi con quelle che là fuori ci si deve ora conquistare con altrettanta pena... E in circostanze quasi altrettanto difficili... E forse allora, sulla base di una comune e onesta ricerca di chiarezza su... Quindi se faremo così, creeremo nuovi pensieri, nuove chiarezze che escono dai campi di concentramento... Laddove la sofferenza è massima... Allora forse... Questa ricerca di chiarezza su questi oscuri avvenimenti... La vita sbandata potrà di nuovo fare un cauto passo avanti... La vita sbandata, sbandata dell'umanità, forse potrà fare un passo avanti... Per questo mi sembrava così pericoloso sentir ripetere... Non vogliamo pensare... Non vogliamo sentire... La cosa migliore è diventare insensibili a tutta questa miseria... Ecco, per questo sentivo come molto pericoloso... Non vogliamo pensare... Non vogliamo sentire... Vogliamo diventare insensibili a tutta questa miseria... Come se il dolore... In qualunque forma ci tocchi incontrarlo... Non facesse veramente parte dell'esistenza umana... Come se il dolore, in qualunque modo lo incontriamo... Non facesse parte veramente dell'esistenza umana... Prima nobile verità... La vita è difficile... C'è la sofferenza nel buddismo...